Benvenuti cari amici al nuovo appuntamento con il cuore delle parole, con gli autori del territorio. Bene, abbiamo con noi Monica Bresciano, ciao Monica, da Bondovì che è già stata con noi qualche tempo fa, qualche anno fa, quando uscì il suo primo libro, siamo nel 2015, Il cuore di una mamma ama e poi nel 2018 pubblicò un libro di poesie Volti. Parliamo oggi di un libro in uscita, in uscita delle presentazioni in questi giorni, La Spirale del Falco, un romanzo bello tosto bisogna dire. Ma prima di parlare di quest'ultima sua fatica, facciamo un passo indietro, anzi due o tre passi indietro e così facciamo un po' un souvenir di quello che è stato il primo libro, è stato un bel successo, Il cuore di una mamma ama. Cos'era quel libro? Era, diciamo, il racconto autobiografico della ricerca di una mamma, della mamma naturale, no? Sì. Allora, come è andata con l'esperienza letteraria nonché umana? È fantastica, in tutti e due i sensi, perché è stato un libro che ha avuto un grandissimo successo emotivo, nel senso che ho fatto tantissima strada con quel libro, ho incontrato tantissime persone, sono cresciuta, ho imparato e devo dire che è stato veramente un inizio, no? un po' una scintilla che mi ha portata in tanti posti del mondo. Del mondo addirittura? Del mondo, diciamo. Sì, ma è... Del mio mondo, ecco. Beh, hai girato l'Italia, se ben ricordo. Ho girato l'Italia, sì, ho girato l'Italia. Anche perché la tematica, quella tematica molto difficile comunque della ricerca della propria origine, del proprio sangue e anche, diciamo, una cosa abbastanza recente perché si può. Si può, si può. Si, al compimento del venticinquesimo anno di età si può accedere ai documenti per chi è stato riconosciuto alla nascita. Per chi non è stato riconosciuto alla nascita l'Italia è un pochettino più complicato, però adesso diciamo che si sta andando avanti bene. Io sono stata molto fortunata perché io, essendo stata riconosciuta alla nascita, ho avuto accesso ai documenti e quindi ci sono arrivata molto presto rispetto a tanti altri. Certo, ecco, ho fatto queste domande un po' personali anche perché il libro racconta di sé e quindi in quel libro lì Monica Bresciano già svelava tutta la sua esistenza in maniera molto sincera, anche molto dolorosa, bisogna dire, un libro assolutamente toccante. Ecco, da buccia letteraria appunto di, ma da buccia personale, delle ricerche, quel libro lì ha dato qualcosa, no? È stato ancora più un impulso a un po' la tua vita appunto privata in quel senso. Per quanto mi riguarda, io nel momento in cui ho scritto questo libro avevo già raggiunto un po' i miei obiettivi, però sicuramente è stato un libro che mi ha portata a conoscere tantissime storie di vita, tantissime persone, tantissime realtà, cioè il mondo delle adozioni è un mondo sommerso. Io pensavo quando ho scritto questo libro di essere unica, comunque poche persone, invece veramente c'è un mondo sommerso dove ci sono tantissime storie, anche storie molto, molto dure, molto dure, sì, sono proprio entrate in contatto con persone che hanno avuto un vissuto veramente incredibile e quindi io mi ritengo doppiamente fortunata. Già ero convinta di essere fortunata, ma dopo aver sentito tante storie devo dire che sono veramente molto fortunata. Ecco, il vissuto è difficile, l'ha riscontrato negli adottati o nei genitori che hanno adottato, secondo te? Tanto negli adottati, perché comunque il percorso è molto lungo ed è molto difficoltoso, manca proprio questa origine, manca questa radice, manca quest'inizio, quindi è tutto molto più complicato. Ci sono tantissime storie, anche tantissime storie difficili di madri che hanno lasciato i loro figli e sono state costrette a lasciare i loro figli, storie difficili a livello di adozione, perché comunque bene o male noi ci portiamo appresso un trauma, chiamiamolo così. Poi la vita ci porta a superarlo, ci porta a imparare, ci porta a crescere, però ci sono persone comunque che fanno molta fatica, molta più di altre. però diciamo che è un mondo un po' difficoltoso visto da tutte le prospettive, nel senso che sono sempre storie molto difficili, sono sempre storie dove ci sono delle situazioni emotive complicate, però ci sono anche delle storie molto belle, perché io posso veramente dire di aver condiviso tantissima gioia. Dolore sì per quello che è la storia, per quello che sono le tematiche, però io ho conosciuto tantissime persone e ho condiviso tantissima gioia. Ecco, poi chiudiamo con questo primo capitolo della nostra intervista. Negli ultimi 30 anni sicuramente sono state molte adozioni, diciamo, internazionali, con i bambini dell'est, o africani, o sudamericani, o di altri, o asiatici, insomma. C'è più difficoltà nei rapporti con i bambini esteri o con quelli italiani, dalla tua esperienza? Perché almeno gli esteri, diciamo che non hai più rapporti con la famiglia d'origine, diciamo. Ma non è vero, sai, non è vero, perché comunque la ricerca è proprio dentro ogni bambino che è stato adottato, cioè questo bisogno di radici c'è in ogni caso. E comunque anche i bambini che sono stati adottati, hanno adozioni all'estero, comunque cercano anche loro, è difficoltoso, è ancora più difficoltoso, perché poi a un certo punto subentra anche il problema della lingua, cioè ci sono tante tematiche. Diciamo che oggi, fortunatamente, l'adozione è vissuta più in modo naturale, è meno un tabù, è meno un segreto. Quando io sono stata adottata, essere adottati era una cosa strana, no? Non se ne parlava, non bisogna parlarne, bisogna stare zitti, non bisogna dire niente. Invece adesso, fortunatamente, i bambini vengono informati subito, quindi sanno la loro storia, conoscono la loro realtà, sanno che comunque c'è una mamma che li cresce, una mamma che li ha messi al mondo, insomma. Quindi è tutto più facile, no? E non penso che ci siano differenze tra le adozioni italiane e straniere. Cioè, diciamo che poi adesso in questa realtà multietnica comunque è anche tutto più semplice, no? Quindi non c'è più il corore, non c'è più la razza, no? E quindi bene o male anche l'integrazione è più facile. L'integrazione è un po' meno facile negli ambienti scolastici, dove secondo me, se posso dire, ci vorrebbe un pochino più di formazione da parte dei docenti, proprio dal mondo degli adulti, perché bene o male i bambini, loro viaggiano col cuore, viaggiano ad emozioni, non sono così selettivi, no? Mentre secondo me ci sarebbe da fare un buon lavoro sul mondo degli adulti, degli insegnanti, degli educatori, se posso dire. Allora, l'ultima domanda a sto punto è se c'è stato, diciamo, quasi un razzismo nei confronti degli adottati nella tua esperienza di vita, tua e quelle che hai sentito. Razzismo non soltanto dal fatto che uno sia di un colore o di un'altra regione, ma il fatto che tu sei adottato, sei un cittadino di serie B. Secondo qualcuno, ecco, questo l'hai percepito o no? No, io questo non l'ho sentito, anche se mi rendo conto che ci sono leggi che fanno diventare queste persone di serie B, no? Perché comunque agevolano molto poco. E quindi adesso diciamo che si sta facendo strada e si sta andando avanti, però io personalmente non mi sono mai sentita in serie B, mai, assolutamente. Bene, anche conoscendo Monica, mentre si sente in serie B, probabilmente avrebbe reagito con le unghie e con i denti. Monica è una narratrice, ma nella sua esperienza di vita scrive anche poesie e ha pubblicato nel 2018 la raccolta Volti. Cosa ci racconti prima di entrare poi finalmente nel nuovo libro di Volti? Allora, diciamo che chi ha letto il primo libro mi ritrova nel secondo, perché Volti è una raccolta di poesie scritte dal 1996 al 2006. E diciamo che sono tutte poesie di vita che riprendono un po' quello che è il primo libro, perché il primo libro è autobiografico, è la mia storia, quindi le poesie sono molto personali, molto intime e quindi raccontano quello che c'è nel primo libro in forma poetica. Io ho iniziato a scrivere scrivendo poesie. Nel 1996 ho scritto un racconto che poi è diventato una poesia e di lì mi sono appassionata e ho sempre scritto. Poi sono sempre stata lì in un cassetto e a un certo punto ho detto... Hai deciso, facciamo vedere il mio volto. Sì, beh i volti, scusami, il titolo Volti è proprio dato dal fatto che sono tanti volti che sono stati nella mia vita, che mi hanno accompagnato nella mia vita per questo titolo. E adesso arriviamo dopo un bel po', come si fa nel teatro, il protagonista entra nel secondo atto. Qui entriamo a parlare del nuovo libro, La Spirale del Falco, che è appunto in presentazione in questo periodo, che è un romanzo a tutti gli effetti, forse autobiografico, vediamo se ci dirà qualcosa a Monica Bresciano. Cos'è La Spirale del Falco? Allora, La Spirale del Falco è un romanzo che racconta la storia di Nora, che è una giovane donna molto tenace, molto coraggiosa, che si sposa molto giovane con Lorenzo. Con Lorenzo ha due figli, Francesco e Beatrice, e sono proprio questi figli che a un certo punto della sua vita creano le crepe, cioè non i figli, ma comunque la situazione familiare che si viene a creare dopo la nascita dei figli, si porta a delle crepe, delle crepe che diventano sempre più profonde, fino al punto in cui Nora decide di lasciare Lorenzo, e quindi con i suoi figli si trasferisce altrove. Quindi si ricostruisce praticamente una nuova vita con i suoi bambini, cambia casa, cambia lavoro, cambia città, e anche nei momenti in cui sente che le difficoltà sono tante, non si lascia battere perché Nora sa benissimo di aver fatto la scelta giusta, e quindi procede in questo cammino. Questo sostanzialmente... Beh, avendolo letto, La scelta giusta è una parola grossa, devo dire, no? In quel momento era La scelta giusta? Sì, sì, come nei cartoni animati, quando uno corre nel vuoto, finché non si accorgia che sotto non c'è più nulla, continua a correre, poi si accorgia che sotto c'è nel vuoto, e a quel punto di guarda in camera e poi va giù, no? Perché senza volere raccontare tutta la trama, perché ovviamente togliamo il gusto al lettore, da una situazione stabile, di un matrimonio magari freddo, magari non perfetto, magari un po' infelice, che Nora si trova nel vasto mondo, all'avventura, si trova ad affrontare situazioni apparentemente meravigliose, che poi si svelano essere meno meravigliose, no? Assolutamente. Il sogno diventa un incubo, no? Assolutamente, sì. E' qua il titolo, giusto? E' qua il titolo, sì. La spirale del falco, ho pensato al falco come predatore, no? Il falco quando deve scendere sulla sua preda, non va in picchiata, ma fa una spirale, proprio una spirale, quindi diciamo che intrappola la sua preda in quel modo lì, ecco. Ed è quello che poi è successo a Nora, perché Nora incontra una persona che apparentemente, come dicevi tu, le dà la gioia infinita, un amore bellissimo, però purtroppo poi Nora si trova ad affrontare delle situazioni molto difficili, proprio perché questa persona ha questa abilità nel manipolare i suoi pensieri, no? E quindi portarla sempre in una situazione favorevole. Nora cerca sempre di guardare il buono, no? La parte buona di quest'uomo, senza rendersi conto che sta realmente scivolando dentro una spirale che si fa sempre più stretta, e lei fa sempre più fatica ad andare via. Ecco, lei vede la sua parte buona, certo la domanda è se c'è una parte buona, no? Perché a un certo punto, quando si incontrano le persone, i famosi manipolatori, no? La parte buona è semplicemente quella che loro ti fanno vedere come parte buona, in verità non ce ne sono di parte buona, c'è un'apparenza buona. C'è un'apparenza buona, sì. Un'apparenza buona che ti fa vivere dei momenti meravigliosi. Assolutamente. Però una volta poi che si rende conto che sull'apparenza quei momenti buoni sono un'anticamera del disastro, no? Ma il vedere il momento buono comunque fa sempre parte di questo gioco, no? Nel senso che comunque quest'uomo riesce proprio a manipolare i pensieri di Nora, no? Li sposta e quindi riesce sempre a portare lei in una situazione favorevole per lui, no? Quindi tant'è vero che Nora si sente addirittura in colpa per aver dubitato di lui, per averlo giudicato. È proprio un discorso in generale, no? Lo spostare i pensieri e non essere più in grado di gestire i propri pensieri nel modo giusto. Quindi guardare la parte buona perché lui in qualche modo ti fa vedere la parte buona, no? Quindi... C'è stata una domanda molto personale che adesso pongo Monica Bresciano e naturalmente è così ben raccontata questa discesa agli inferi tra il paradiso e l'inferno di questa relazione e se c'è un po' di storia personale in questo, no? Ma allora, il libro non è autobiografico, ma diciamo che è un argomento che conosco e credo che in ogni storia di vita una persona che mette sulla carta, che scrive, mette sempre un po' di sé, secondo me, in minima parte o di più o di meno, insomma, però credo che ci sia sempre un po' dello scrittore in ogni libro. In ogni libro. E in quale personaggio dovessi... beh, chiaramente in Nora, direi che non sicuramente nel virgolette cattivo, no? Questo libro qua l'hai concepito dopo il primo libro? Perché a volte i libri escono prima, ci sono quelli che prima e escono dopo, non sai bene, nella testa dell'autore sì c'è un data di pubblicazione, poi magari hai detto vent'anni fa, magari hai concepito prima questo, poi hai messo da parte questo che avevi l'altro in mente, questo quando l'hai pensato? Allora, questo libro ho iniziato a scriverlo nel 2015, ancora prima che uscisse il cuore di una mamma ama, quindi sono sette anni praticamente di gestazione, insomma, avevo proprio bisogno di dargli respiro nel mondo. Sì, sono stati... l'ho iniziato, poi l'ho scritto, l'ho ripreso, però diciamo che avevo anche molto poco tempo e quindi non riuscivo a dedicarmi proprio alla scrittura a tempo pieno. E poi a gennaio c'è stato un grande cambiamento nella mia vita e quindi mi sono proprio dedicata ogni giorno, regolarmente, alla scrittura e quindi finalmente ho portato a termine questa creatura. Tu sei monore galese di Mondovì, il libro è ambientato a Mondovì, anche se non lo dici mai. Qual è il motivo per cui non hai mai scritto vado a Mondovì, vado in città, no? Perché non hai detto che non siamo a Mondovì, non dici siamo a Caserta, dici vado in città. Sì, ma perché ho pensato che ognuno possa metterlo dove vuole, nel senso che ognuno può creare il proprio posto, può ambientarlo dove meglio credere, quindi ho chiamato questo posto città perché così ognuno può. Poi ci sono comunque dei rimandi, dei luoghi, quindi si può immaginare. Il centro commerciale sembra proprio un mondo vicino, devo dire in realtà, no? E chissà, e chissà, in ogni città c'è un centro commerciale, anche più di uno. Anche più di uno, assolutamente, va bene. Ognuno è libero di collocarlo dove meglio crede. Ecco, e ti trascino nella seconda domanda che è appunto questa storia purtroppo è molto comune, no? Cioè sempre di più, poi in questo libro non sforza in un gesto, diciamo, violento verso Nora. Un altro gesto estremo c'è ma non verso Nora, non diciamo altro. Basta perché se no poi non lo leggo più. Ma sicuramente è una storia molto comune purtroppo, no? Sempre di più oggi, anche tramite i social tutto questo è ancora più fattibile, insomma. È più facile forse, vi dovete sgamare con i social, però al suo tempo è anche più facile in un certo modo buttare la rete. La rete nel senso anche di internet, di web, no? Perché c'è molta voglia di avere un grande amore, c'è molta voglia di avere un affetto importante. Lo cerchi nella rete e finisci nella rete. Come ci cita anche Gabbani, la rete siamo noi pescatori, no? È vero, è vero. Pensiamo di essere i pescatori, a volte siamo pescati. Certo. Quindi questa è una storia molto molto comune, molto attuale e ripeto, spesso va a finire non bene, insomma. Sì, diciamo che con questo libro ho anche voluto un po' dare un po' di speranza alle persone che hanno vissuto, che vivono una situazione del genere, perché si può uscire da queste storie, si può, è molto molto difficile, ma si può. E quindi questo vorrei che fosse un po' il messaggio che arriva con questo libro, no? Poi al di là proprio del libro in sé, no? Io credo che comunque si possa uscirne, è necessario farsi aiutare, è necessario condividere, perché in solitudine è abbastanza difficile. È abbastanza difficile. Sì, secondo me sì. Qui la vittima è una donna e il persecutore è un uomo, persecutore, il manipolatore. Secondo te è più normale questo o ci può anche essere? No, ci può anche essere dall'altra parte, cioè al contrario, assolutamente sì. Diciamo che vengono raccontate forse più le storie al femminile, cioè il maschile e femminile in questo senso, come questo libro, ma credo che siano storie comuni anche al contrario, di donne manipolatrici comunque, che fanno lo stesso gioco con gli uomini. Ecco, quindi sì, assolutamente sì. Ultima domanda che è il tempo scorre inesorabile, la copertina è molto bella, quindi vogliamo citare anche chi ha disegnato, il grafico che ha fatto... La copertina è di Giulia Otta, che è una compagna di liceo di Michelangelo, mio figlio, insieme fanno MOG. Diciamo che è l'altro pezzo di MOG, è la mano femminile di MOG. Fanno MOG, mi sembra di essere fantosti. MOG, intanto è l'iniziale dei loro nomi e loro fanno dei disegni molto particolari in cui inventano cose, creano personaggi, poi sono disegni molto fini, molto particolari che bisogna proprio andare a guardare bene bene perché ci sono dei rimandi, è una cosa molto bella quella che fanno e poi loro proprio creano questo mondo, creano loro, questi personaggi sono amici loro, ecco, diciamo così. Poi viene fatto a China e viene colorata da Corello e Giulia è la parte femminile, ecco lei che colora. Ho affidato a lei la copertina, a differenza del primo che l'ho affidata a Michelangelo, mio figlio, perché sentivo che avrebbe potuto fare un buon lavoro, infatti così è stato. Sì, è stato un po' anche angosciante, devo dire, no? C'è questo pressione dall'alto che se uno percebe, soprattutto quando hai letto il libro poi capisci molto di più della copertina. All'inizio lo vedi, ti piace, poi dopo quando entri dentro il libro capisci quello che vuol dire con la copertina. Il tempo è passato, abbiamo avuto con noi Monica Bresciano, alla sua terza fatica letteraria, La Spirale del Falco, in presentazione in questo periodo, sarà presente il libro anche al Salone di Torino dal 19 maggio alle 23, quindi aspettiamo i lettori al Salone per il suo libro e per tutti i libri del mondo. In un Salone dedicato all'Ucraina, per la pace. Grazie Monica. Grazie a te. E allora grazie a voi, al prossimo appuntamento con i libri del territorio. Al prossimo appuntamento con i libri del territorio,